Salve, io sono Mr. Camarium e questo è il mio canale. Mi piace imparare e mettere in pratica quello che imparo e con voi condividerò la mia conoscenza. Parleremo di tecnologia, animali, scienze e molto altro. Però anche di esperimenti. Spero di esservi di aiuto. Ogni settimana pubblicherò un video. Quindi mi aspetto che vi registrate e che siate in tanti per essere sempre aggiornati. Vi invito a visionare nel frattempo tutti i video che ho già pubblicato. A voi una buona giornata. A voi una buona giornata.